La prima colazione è uno dei pasti principali a tutte le età. I nutrizionisti sottolineano sempre quanto sia importante scegliere alimenti equilibrati, in grado di dare il giusto apporto di calorie ed energia per affrontare la giornata. L'alimentazione del mattino dovrebbe fornire il 20-30% delle calorie giornaliere e sarebbe in grado di ridurre il rischio obesità e aumentare le prestazioni fisiche e mentali. Il 6 e 7 luglio l'Altopiano di Asiago ha voluto sottolineare l'importanza di questo momento della giornata, dedicandogli la Kermesse, altopiano da gustare, colazioni e merende nel cuore della natura. Una grande festa per far conoscere e valorizzare tutto quello che l'Altopiano di Asiago è in grado di offrire, sia dal punto di vista turistico che enogastronomico. Abbiamo organizzato con la collaborazione degli altri attori del territorio questa manifestazione, un altopiano da gustare. Il motivo per il quale l'abbiamo fatto è quello di dare valore alla prima colazione, sia come momento dietetico, la colazione è molto importante, ce lo dicono i nutrizionisti, e anche perché dobbiamo dire che i nostri prodotti sono prodotti da prima colazione. Abbiamo invitato degli chef famosi perché con la loro creatività e il loro buon gusto ci dessero quel valore in più a questo momento, che è un momento di aggregazione per tutta quanta la famiglia. Fulcro dell'evento, il piazzale dello Stadio del Ghiaccio, dove è stata allestita una tensostruttura coperta, all'interno della quale, oltre a un allestimento dedicato alla colazione, alla merenda e alle varie degustazioni in programma, si sono svolti show cooking aperti al pubblico con la partecipazione di famosi chef del territorio. Siamo ad Asiago, siamo venuti a presentare una manifestazione sulle marmellate, sui prodotti del nostro territorio e della nostra terra. Siamo qui con tutti i vari produttori, con tutti i prodotti del territorio, quindi dalle marmellate ai formaggi, a una birra, la birra cimbra che è stata presentata ultimamente, e siamo qui per far conoscere alla gente di cosa siamo capaci, di cosa può offrire il nostro territorio. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS